ah che bello ho preso un caffè ciao amica ciao amica ciao non voglio nulla non voglio nulla prendi questo prendi questo no no grazie prendi questa amica prendi no no non voglio non mi piace nemmeno prendi regalo io a te regalo no grazie tu mettere il bracciale regalo elefante porta fortuna io fregano tu sorella io fratello eh regalo hai preso un po di sole però eh io fregano io fregano sei regalo ah va bene vieni vieni sei regalo eh tua amica mia amica mia chi mi fai chi mi fai amica mia dammi cinque dammi cinque grande amica mia sì però non c'ho niente ora dai non voglio niente non voglio eh io regalo questo a te via allora via ti do lo spiccio domani a te eh guarda c'è un po di qualcosa questo ah sì io dare a te altra cosa a te no non voglio nulla dai tieni tieni questo qua dare marito questo padre marito padre marito padre marito padre marito dai questo dai questo qui pure per l'amica tua questa amica questo qui dai tieni dai cinquanta euro no cinquanta euro devo cambiare tu devi cambiare cinquanta euro se no dammi testa eh tieni amica mia tutto tutto per te tutto per te amica mia tieni eh con questa roba qui tu eh dove è andato ma eh mi ha preso mi ha preso un sacco di soldi ma ma dava venticinque vieni qua vieni qua guarda qui mamma mia guardi che mi ha lasciato questa cintura del cavolo che mi è il foglio di questa cintura di plastica queste schifezze con l'elefante invece porta fortuna porta merda porta schifo guarda la carta stagnoa e chi è sta roba chi è chi è io non voglio nulla vieni qua insomma è scappato dei soldi mi ha preso venticinque euro di resto vieni qua vieni qua parliamone parliamone è ormai scappato parliamone questo che che significa eh che significa sempre il sedere eh che una mummia egiziana bel fagorrosa io non sono io parliamo di quello che c'è successo ma non sono io vieni non ti vergognare parliamo di quello che c'è successo parliamo di quello che è successo va bene allora quello grazie grazie eh è successo che abbiamo trovato un profetido nero un profetido nero nero che ci ha dimostrato tanto per farci ricordare le tattiche dei profeti di tutti i tipi che usano sempre la stessa tattica cioè quella di fare le moine fare le moine come quello che te lo vuoi infilare in quel posto e dici rilassati rilassati e poi zac te lo infilare in te esatto questi con le moine ci hanno lasciato al bar nessuno voleva prendere niente ci hanno lasciato questi braccialetti tutti e due dicendo che ce li regalavano ecco sì non voglio nulla no no per dio per la madonna per i santi per dio per la madonna per allarme qui qua qui qui qua qua e poi perché io io regalo io regalo io fratello io qui io là e poi oh 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 bravo ciao ciao mi importa va via eh va via vado via io non voglio niente ciao era bella andato via poi invece è ritornato dice strano no? ti via ti do due spicci e dai vabbè quasi fino vabbè vediamo nei portafogli che c'ha questa e mi chiede cambia 50 euro gli ha dato 50 e gli ha dato 25 di resto poi gli ha pioppato anche questo sopra è andato corso via come una setta non l'abbiamo più trovato esatto ci ha fregati come ci hanno fregato tante altre persone ecco e questo che significa che è la tattica di quelli che fanno finta o come sono bravo guarda ti puoi fidare di quello che dico di quello che faccio io sono poverino io sono qui io sono la borda poverino diamogli qualcosa e poi ti frega alla fine ti frega ma ti incurano esatto quindi la morale è questa non fare mai del bene a nessuno e che te lo sembra qualcuno ti si avvicina ti dice ti do ti regalo questa cosa oppure ti chiede dei soldi perché è lemosina vuole lemosinare perché si deve che ne so deve fare altre cose inchiappettarsi inchiappettarsi a qualcuno eh quindi non date mai soldi esatto non vi fate inculare sia dai profeti di di tutti i tipi italiani che dai profeti di di colore delle fogne delle fogne e quindi l'elefante perché loro fanno con lo spuso e la pazienza l'elefante lo mise in culo alla formica cioè le formiche siamo noi eh infatti l'elefante ce lo mette nel culo perché è pieno di soldi ed elefante quelli fregate gli altri e allora ciao ciao mai aver pietà degli stronzi sì infatti ciao ciao ciao